e abbiamo qui sul palco Marzia Pellegrino tesoro, ben arrivata allora io ricordo ancora il cantagiro.tv quindi potete connettervi direttamente sulla nostra tv web quindi cantagiro.tv ringrazio tra l'altro il nostro regista Luca Leuzzi Sì, eccolo lì, grazie Mitico è grande, veramente ti faccio duemila complimenti perché sei veramente molto bravo ed in gamba tesoro, ricominciare e volevi fare una piccola dedica Sì, allora intanto devo dire due cose importanti la prima, sono stata placata anche da Joker quindi I was gonna wait Mani, 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 tutti uno, due, tre Allora ragazzi, anche per coloro che sono appena arrivati non hanno capito questo sarà il tormentone del cantagiro arriveremo alla finalissima con delle grandi sorprese appunto con Joker e quant'altro brevissima io ti spiego vuoi un attimo a me detto Leo, mi fai dire un attimo due pronine te lo spiego perché magari il regia ti mandano la base quindi io ti lascio dedica quello che vuoi regia, quindi attenzione e poi vai con la base signori, per voi io voglio dedicare questa manzone ai miei compagni di classe che mi stanno guardando via internet un bacione ok ok grazie a voi grazie a voi chi mi dice ti accorgi dei giorni andati E dei momenti passati A volte capita a te Ripensi a ciò che non c'è Rimembri dei momenti E poi sorridi E poi pensi che hai perso tutto quanto Hai perso tutto il resto E poi vorresti tornare indietro Quando tutto era iniziato A volte è meglio non pensare A tutto ciò che finisce Perché sia così Ma vuoi no E poi pensi che hai perso tutto quanto Hai perso tutto il resto E poi vorresti tornare indietro Quando tutto era iniziato E poi pensi che hai perso tutto quanto E poi pensi che hai perso tutto il resto E poi pensi che hai perso tutto quando marzia pellegrino è una cosa bellissima quella che stai dedicando ai tuoi compagni di classe cantautrice ricominciare cantautrice da poco da stasera per la prima volta il mio primo pezzo ecco ti pare poco varcando poi il palco del canto a giro complimenti marzia direttamente dalla toscana grande marzia